Sfida con il fisco dell'arbitro, una grande prestazione offensiva, hanno messo in enorme difficoltà di pensione avversari, questo per loro è un giorno di festa. E invece la tua analisi di questa gara qual è Luca? Hanno giocato bene, scegliendo di attaccare e sfondare soprattutto per vie centrali e grazie alla qualità di questo gioco offensivo sono riusciti a ottenere una vittoria meritatissima. La nostra telecronaca termina qui, ringrazio Luca Marchegiani per avermi accompagnato. Grazie e a presto Fabio. Grazie. 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 Grazie.